Il nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli ha proceduto su disposizione della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Napoli alla confisca tra Campania e Lazio di l'ingente patrimonio del valore di 17 milioni di euro riconducibili a Michele Palumbo nato a Villa Ricca nel 1952 appartenente a Clam Mallardo. Le fiamme gialle hanno acquisito al patrimonio dello Stato 17 unità abitative tra i comuni di Giuliano, Aversa, Mentana e Monte Rotondo, 11 terreni nel comune di Mentana oltre a quote e immobili relativi a una società operante nel settore immobiliare con sede a Fonte Nuova riconducibile al prevenuto e al suo nucleo familiare. L'attività trae origine da indagini delegate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli ed eseguite dagli specialisti del Gico Partenopeo che hanno eseguito nel periodo tra il 2010 e il 2021 diversi provvedimenti di sequestro preventivo e di misure di prevenzione patrimoniale disposti dei Tribunali di Roma e Napoli nei confronti tra gli altri del Palumbo. In questo contesto criminale come evidenziato in sentenze dello stesso Tribunale di Napoli il Clam Mallardo ha investito i propri provvedenti leciti in attività immobiliari facenti capo al Palumbo e ad una sua società operante del settore Dile. Il sodalizio era stato favorito dal genero del Palumbo Giuseppe D'Alterio, esponente di rilievo del Clam Mallardo, per conto del quale si interessava di diversi settori economici quali quello di dizio immobiliare nonché della distribuzione del caffè agli esercizi commerciali del Giulianese e del Casertano, ove acquisiva commesse anche in zone controllate da clan camoristici alleati, come il clan dei Casalesi. Il presupposto per l'applicazione dell'odierna misura di prevenzione patrimoniale deriva dall'accertata appartenenza del Palumbo al Clam Mallardo, sancita da una condanna a 12 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa e scaturisce dagli accertamenti economico-patrimoniali effettuati dalle fiamme gialle. Infatti il monitoraggio effettuato dal GICO di Napoli ha fatto emergere grazie ai riscontri sviluppati anche attraverso l'utilizzo delle banche dati in uso al corpo e agli accertamenti bancari una marcata sproporzione tra le fonti di reddito lecite in cui il soggetto disponeva ufficialmente e il patrimonio di meri mobili e immobili di rilevante valore negli anni accumulato.